E' un po' di butonica perché troppa roba Questo è un forso decente Questo vuoto Delissimo Anche il video è bello Io con queste foto e video potrei fare dei cacolavori su... Cioè proprio... Non so O li butto via perché troppa L'espressione Ma chi è che ha quella coda lunga così mostruosa? Questo non è Questo non credo Questa c'è la coda comunque mostruosa Che bello è sti cavallucci marini Ah buono Che spettante Guarda quello lì cosa non è Questo di fatto è mimetizzato Sì che belli i cimorini, sono stupendi proprio, bellissimi il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti 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 Grazie a tutti